Oggi parliamo di come ci si fa trovare in rete. Non è un periodo semplice, quindi parlare di come trovare lavoro non è esattamente una cosa facile neanche per me. Vi consiglio sempre di raccontare ovunque anche quali sono le vostre competenze, perché spesso tendiamo a ignorare i legami deboli, cioè raccontiamo di cercare lavoro ad amici stretti. Allora, i miei amici stretti hanno le stesse conoscenze e reti di conoscenze che ho io, perché comunque frequentiamo più o meno le stesse persone. Se tu inizi a raccontare a lei che cerchi lavoro, probabilmente lei conosce delle persone diverse da quelle che conosci tu e che conoscono i tuoi amici. Quindi lei per te è un legame debole, però probabilmente è un'opportunità in più per raccontare delle tue competenze, che cosa vorresti fare, che cosa stai cercando. La gente ancora non sta cercando abbastanza il lavoro online, dove comunque lo potrebbe trovare. Quanti di voi si sono mai cercati su Google? Cercandovi online potete monitorare la vostra reputazione. Queste sono le quattro domande che comunque vi dovreste fare prima di iniziare a scrivere. Ora, quali sono le tue competenze? Cioè, di cosa sei capace? Cioè, cosa sai fare davvero? Quanto è specifica la tua formazione? Che poi uno se lo dimentica, cioè, io so, lavoro nel settore, ma nel settore tal dettaglio, non è una cosa specifica. Cosa fai esattamente in quel settore? Cosa è che sai fare? Che tipo di esperienze hai avuto in precedenza? Perché tu dici, vabbè, sono dieci anni che lavoro qui, ma prima cosa hai fatto? Magari prima hai fatto qualcos'altro e se non hai fatto un altro lavoro, comunque hai studiato qualcos'altro. E quindi, e poi a cosa ambisci? Perché uno non ci pensa mai, però è interessante sapere che cosa vuoi fare da grande, anche se grande già lo sei. Lettete online un profilo chiaro, lineare e comprensibile. Lo leggete anche magari con attenzione. Se vi va lo fate rileggere da qualcun altro. Vi scappa sempre un refuso che voi da soli non riuscite a vedere. E cercate quali sono le job title in questo momento riconoscibili per il lavoro che fate. Ottenete almeno un paio di referenze, cioè fate in modo che comunque nel momento in cui il vostro curriculum sia online, possiate chiedere a qualcuno di testimoniare le vostre capacità. Iniziate a fare questo lavoro con lo scopo di creare una rete. Cioè tutte queste cose non dovete farle pensando che comunque oggi mi metto su LinkedIn, significa che ho spedito un curriculum. Oggi mi scrivo a LinkedIn, scrivo delle cose che riguardano la mia vita, faccio in modo che comunque le persone abbiano di me un'impressione diversa, che sappiano più cose di me, che sappiano di me le cose che io voglio fargli sapere, che voglio mettere in evidenza.